Dal 19 al 21 agosto Guardia Grele presenta Artigitale, in realtà è una crasi tra digitale e artigianato, proprio qui c'è l'attenzione, cosa ci sarà in programma? Sì, Artigitale è la prima edizione, in programma ci sarà tutta una serie di esposizioni, di opere artistiche e artigianali realizzate nel locale, ospiti nazionali, e eventi come laboratori, workshop, tutta una serie di professionalità locali che metteranno a disposizione del festival le proprie competenze. E' una novità perché riesce a mixare la tradizione e l'innovazione con progetti studiati specificamente per portare l'attenzione di un pubblico ancora poco avvezzo a queste nuove tecnologie, questo mix con progetti veramente realizzati per l'occasione. E questa sarà veramente la novità di questo festival, che è riuscito in questa impresa e speriamo che possa essere veramente un momento di conoscenza per questi artigiani che sono veramente delle eccellenze locali.